Una catena umana internazionale per dire stop al genocidio di Gaza, anche a Pescara, come vedete alle mie spalle c'è questa catena umana organizzata dalla rete di solidarietà con la Palestina e pace nel Mediterraneo, dalla sezione abruzzomonese. Cam Lecce, lei è una delle promotrici, allora voi chiedete lo stop al genocidio di Gaza. Sì, per fortuna possiamo in questo momento che stiamo parlando usufruire della tregua che c'è stata, che speriamo possa andare avanti perché la situazione nella striscia di Gaza è veramente arrivata a dei livelli insopportabili in termini umani. Abbiamo promosso noi localmente da qui questa catena umana alla quale hanno già aderito 48 comunità palestinesi di 26 paesi europei più ci sono altre associazioni e organizzazioni che si occupano di solidarietà per la Palestina, che lavorano nell'ambito dei diritti umani, della cooperazione internazionale, che in altri paesi tipo l'Australia, tipo anche la Francia aderiranno. Lo scopo è quello di utilizzare dei mezzi non violenti come può essere una catena umana per andare soprattutto a supportare la campagna internazionale lanciata dalla popolazione palestinese nel 2005 che si chiama boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro le politiche dell'occupazione palestinese da parte dello Stato di Israele. E gli obiettivi che noi ci proponiamo con questa campagna è quella di porre fine all'embargo che la popolazione di Gaza sta subendo dal 2005. Non solo c'è carenza di cibo, di acqua, di medicinali, ma in questi giorni ci sono stati 1875 morti di cui oltre 408 i minori al di sotto di 12 anni, che sicuramente non possiamo dire terroristi. L'appuntamento per la catena umana qui a Pescara è alle 11 alla nave di Cascella, ma in Italia e anche nella nostra regione sono tantissimi gli altri posti. Andando, linkando sulla pagina dell'evento della catena umana, è possibile rintracciare molto più nei dettagli.